www.feyyaz.tv 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 Bravo! Ma che cazzo fanno? Ma cosa cazzo fanno? Uuuu! 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 Ma che cazzo fanno? Eh eh! C'è un buon! Bravo! Bravo! VITTE! Uuuu! 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 Grisò! Però sulla ripresa non è male! Grisò! Te la lascio! Puttana Eva! VITTE! VITTE! Non si pagano. Guarda sai cosa mi ricordo? Ma che non fai! Ma che non fai? Ma che non fai? Ma che non fai? Chi non fai? Chi non fai? Chi non fai? Ma perché non fai? Per quale motivo? Buono eh, buono! Sei un cane arbitro! C'è un ghiaccio di merda, bravo coglione! Bravi, bravi! Che bastardi, amica! La mano a mano, ma porca puttana! Ma lei mi si è cattato in mila anni adesso! Si, però anche se è un aiuto lì! Ti hai fatto l'argomento! Finca col dal mondo! Ma questo è quello che non si era? Qua è la parola che non si era? Non si era un paradiso! Non si era un paradiso! Non si era un paradiso! Nel bosco di merda! Oh no! Grande abitro! Grande abitro! Grande abitro! Grande abitro! Autore dei sorrisi